Il chenumano, Rodrigo Alves, quanto ha speso e come era prima, foto. Rodrigo Alves, il chenumano, la vita e le operazioni dell'uomo più rifatto al mondo, foto qui sotto di com'era. Rodrigo Alves, 34 anni, meglio noto come il chenumano grazie al suo amore per la chirurgia estetica, l'uomo ha speso oltre 425 mila euro per varie operazioni. All'anagrafe è il sudamericano Rodrigo Alves, nato da padre brasiliano e madre inglese. Infatti le sue radici affondano a San Paolo in Brasile, ma a causa del suo background familiare detiene la nazionalità britannica. E' erede di diverse proprietà a Puerto Banos, Marbella, Spagna, che affitta a turisti. Ha anche una pensione mensile cospicua, lasciatagli dai suoi nonni. Insomma, Rodrigo finanziariamente parlando alle spalle ben coperte. Attualmente vive a Londra. Il chenumano, Rodrigo Alves, 425 mila euro spesi in chirurgia estetica e il Guinness dei primati. Il brasiliano è conosciuto per le sue scelte di stile e di moda e ha anche caratterizzato on-chicu e vogue grazie alla sua originalità nel scegliere il suo abbigliamento. Per tutti è ormai il chenumano. Motivo? Basta dare un'occhiata alle sue fato per capirlo. L'uomo è entrato nel Guinness dei primati per aver subito il maggior numero di interventi di chirurgia estetica, 58 per la precisione dal 2004. Inoltre si è anche sottoposto a 103 procedure e trattamenti cosmetici, per una spesa totale di oltre 373 mila sterline, circa 425 mila euro, come riporta il noto tabloid britannico The Sun. Tutto per assomigliare a Ken, lo storico compagno di Barbie. L'ultima operazione che ha effettuato è stata una nuova dermoabrasione, intervento che gli ha permesso di correggere le ruche superficiali del viso e della zona intorno alla bocca. Rodrigo Alves, le principali operazioni di chirurgia estetica a cui si è sottoposto e i costi degli interventi. Rodrigo è divenuto una vera star, social, tv e aziende di moda lo richiedono per la sua inarrestabile popolarità. Di seguito i principali interventi chirurgici a cui si è sottoposto. Le cifre riportate tengono conto della valuta sterlina, 8 mila in botox e filler, 30 mila di ritocchi al setto nasale, 3 mila in liposuzione alla mandibola, 10 mila di protesi ai pettorali, 22 mila in addominali finti, 7 mila in filler alle braccia, 5 mila di trapianto di capelli, 7 mila in liposuzione laser, 6 mila in liposuzione alle gambe e 3 mila in unoperazione per dare nuova forma alle gambe e ai polpacci. Kalf Shopping. .